Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Oggi sospendiamo per un attimo la discussione sui vaccini, sul coronavirus, anche se poi in realtà quando si parla di politiche inevitabilmente si parla anche di politiche di contrasto al coronavirus perché la regione toscana insieme a tutte le altre regioni sta cercando di combattere con le vaccinazioni questa pandemia e sappiamo che il venerdì è sempre un dato cruciale visto che c'è il passaggio a colorazioni diverse con il report dell'Istituto Superiore di Sanità. Noi oggi però parleremo molto anche di politica e parleremo di un partito, il Partito Democratico, di cui abbiamo un rappresentante di studio, il sindaco di Borgo Saldorenzo Paolo Moboni. Buonasera e benvenuti. Buonasera a voi. Allora perché parleremo di Partito Democratico? Perché poi in realtà dalla Toscana come spesso accade potrebbe partire un po' il senso di una diatriba interna ma se vogliamo più che altro sono due visioni contrastanti di dove deve andare il Partito Democratico soprattutto alla luce di una possibile alleanza strutturale con il Movimento 5 Stelle. Lo diciamo velocemente, ci sono le due posizioni in campo, quella di chi è più vicino al segretario nazionale Zingaretti che vorrebbe appunto un'alleanza strutturale con i 5 Stelle anche in Toscana e sul gello di questo accordo poteva essere la candidatura di Giuseppe Conte alle elezioni suppletive a Siena che però è stata bocciata dall'altra parte del partito che è più fedele alla linea della segretaria Bonafè che invece invoca una discussione interna, ergo un congresso, per capire quale deve essere la direzione del Partito Democratico. La prima domanda la faccio a Paola Moboni, visto il lunedì ci sarà una resa dei conti di fatto si capirà quale sarà la direzione del Partito Toscano, lei come la vede? Soprattutto diciamo questo, il tema del congresso oggi viene un po' allontanato dicendo non è il momento delle discussioni interne al partito, è anche vero che come probabilmente la pandemia è stata una tabula rasa, farà tabula rasa un po' di tutto, di tante cose, si dovrà ripartire da zero, probabilmente anche il Partito Democratico in una fase transitoria a cui dovrà uscire con una visione più chiara. Non c'è dubbio anche perché l'ultimo congresso ha visto la vittoria di Zingaretti come segretario ed è un'era politica fa, ci sono stati oltre a dei cambiamenti da un punto di vista nazionale con il nuovo governo insieme ai Cinque Stelle e Leo ci sono stati altri passaggi, l'ultimo ovviamente è quello che ha portato poi alla crisi risolta credo in maniera migliorativa grazie al nuovo presidente del Consiglio Draghi. Su questo però si è innestato un ragionamento politico perché dall'ultima polemica penso, quella dell'intergruppo fatto a livello nazionale che capiamo tutti essere magari un meccanismo che permette alle forze del precedente governo in qualche modo anche di confrontarsi e contrastare comunque il fatto che c'è un numero molto maggiore per esempio di deputati e senatori del centro-destra è stato dipinto anche dalle dichiarazioni penso di Conte ma riprese anche da qualche esponente insomma del PD nazionale come una sorta di operazione politica. Allora a questo punto credo che come in tutti i partiti, come in tutte le organizzazioni, se c'è una visione politica che va oltre a quello del matrimonio di interessi per in questo momento fare un governo che dia delle priorità e gestisca l'emergenza come stiamo affrontando è doveroso che il PD faccia un congresso e chiarisca la linea politica anche perché non c'è solo un tema dell'alleanza, dell'eventuale alleanza di 5 Stelle o con altre forze politiche o altre aree politiche c'è anche un problema secondo me rispetto alla vocazione del PD che nasce, io sono arrivato dopo, ma nasce nel 2007 con un'importante vocazione di partito maggioritario, cosa che se oggi vediamo anche la discussione con la legge elettorale che sembra portare tutti a una soluzione proporzionale cambia completamente il quadro delle regole per cui il PD deve decidere se vuole fare un'alleanza strutturale con i 5 Stelle o con l'EU o vuole prendere altre direzioni lo deve decidere ora, ora, non deve diventare una resa dei conti e non deve neanche secondo me diventare un tema di chi fa il segretario ma deve diventare un tema politico perché per quanto mi riguarda personalmente un'alleanza strutturale con i 5 Stelle che sono lontanissimi da quello che è il riformismo che in questi anni pur con tantissime difficoltà il PD ha portato avanti potremmo prendere delle decisioni diverse ma in ogni caso c'è il partito, ci sono le strutture del territorio perché anche su questo permette di dire due cose, noi abbiamo sentito in questi mesi parlare a nome del PD o personalità, penso a Bettini, ma non ho niente contro Bettini che non sono state elette da nessuna parte neanche nelle direzioni, per cui i territori non sono stati coinvolti in questa eventuale scelta fino ad oggi per cui se ci saranno congressi si darà il modo alla base, ai territori di dare la propria opinione e scegliere poi come succede in tutti gli organismi, ci sarà una linea che vincerà, una linea che perderà però è il momento ora di discuterne assolutamente Senta, proprio sul discorso dei territori c'è il rischio, forse c'era già tra le righe del discorso che faceva lei insomma di una divisione, una sparazione, un allontanamento del PD romano, diciamo così anche se poi non è un aggettivo proprio giusto, ma insomma di chi, come dire, governa in Parlamento di chi sta in Parlamento e di tutto il resto, della famosa base o se vuole dei territori insomma c'è un po' una scollatura perché spesso e volentieri si vedono questioni che non vengono automaticamente riportate sul territorio, ne faccio un esempio l'idea del, o Conte o morte, estremizzo, insomma, ma è stato questo probabilmente alla base non è che sia una questione di così semplice soluzione insomma, magari andrebbe spiegata, magari bisognerebbe arrivarci, come dice lei, tramite una discussione Andrebbe spiegata, andrebbe fatta una discussione e guardate, non è che ci si debba limitare al caso Conte tu citavi Conte giustamente come possibile candidato nel Collegio di Siena poi noi parliamo da un territorio che ha visto candidati come Di Pietro e Rizzo esattamente calati dall'alto alla stessa maniera, per cui non ci si scandalizza però è chiaro che il tema di Conte, bene o male, fa presagire un ragionamento politico e c'è dietro di che Conte è stato dipinto da più parti come il trade union fra il Partito Democratico e una parte del Movimento 5 Stelle verso un qualcosa che politicamente non è stato discusso a livello territoriale il Partito Democratico in questi mesi ha giocato a livello nazionale un ruolo credo anche importante da un punto di vista di gestione del governo, di gestione del potere, di gestione dell'amministrazione statale ma il ragionamento politico va fatto perché altrimenti davvero la base in questo momento, da quello che percepiamo un po' tutti, è molto disorientata è altrettanto chiaro che il Congresso non deve diventare l'ennesima resa dei conti per ulteriori scissioni. Quando ci siamo immaginati il Partito Democratico anche nelle fasi successive, ce lo siamo immaginati come un contenitore che all'interno potesse avere tutta una serie di sensibilità come avviene nei partiti socialisti, socialdemocratici, progressisti di tutta Europa nel momento in cui si fa un congresso c'è chi vince, c'è chi perde le scissioni sono sempre dolorose, l'abbiamo visto sia a sinistra che a destra a mio avviso il Partito Democratico deve tornare centrale nella discussione politica non si deve assottigliare in maniera, soprattutto sui contenuti su quelli che sono i temi dei Movimenti 5 Stelle che sono lontanissimi dal riformismo del Partito Democratico ma fare un ragionamento inclusivo questo si fa attraverso la discussione non attraverso le interviste o i colpi di hastag Senta, solo una cosa su questo poi voglio venire anche un po' a fare i ragionamenti più vicini a noi però lei prima faceva giustamente la differenza tra quello che è un partito di stampo a vocazione maggioritaria come è nato il Partito Democratico e una situazione però che di fatto è una situazione proporzionale allora c'è qualcuno che sta dicendo e secondo me si legge tra le dighe anche da chi sta fuori dal Partito Democratico ma non troppo, o ne è uscito non troppo tempo fa insomma l'idea che sostanzialmente si potrebbero ricreare anche le due formazioni che poi con una sorta di fusione a freddo hanno dato vita nel 2007 al Partito Democratico cioè tornare un po' allo schema che divide da una parte immagino io i Bersani e dall'altra i Conte Franceschini magari, ora faccio dei nomi così a caso ma insomma lo schema potrebbe essere questo sarebbe un passo indietro per il Partito Democratico Beh, credo per come è nato e per come abbiamo cercato di immaginare il Partito Democratico credo proprio di sì un ritorno al proporzionale vorrebbe dire una ricerca delle differenze per la tornata elettorale per poi provare a fare un governo un governo insieme anche perché noi non ci dobbiamo dimenticare questo che a fronte di quello che può essere il campo progressista dove ci sono questi movimenti ormai da mesi c'è un centrodestra che facendo anche le proiezioni anche con la legge elettorale attuale farebbe cappotto alle elezioni al di là delle differenze fra Fratelli d'Italia Forza Italia e la Lega sul governo Draghi nei territori comunque il centrodestra da tempo si presenta come unitario per cui se l'obiettivo del Partito Democratico è quello di rimanere una forza che ad oggi stando agli ultimi sondaggi pesa il 18% è chiaro che tu devi trovare delle alleanze che non possono essere nel campo del centrodestra ma se l'alternativa è quella dei 5 Stelle penso che il Partito Democratico meriti di meglio meriti di recuperare anche quella idea di partito maggioritario anche in un sistema bipolare che oggi sembra parlare di bipolarismo oggi sembra fantascienza ma credo debba provare provare a riprendere un po' le radici perché altrimenti vorrebbe dire che torniamo ai DS e alla Margherita che magari si chiameranno in altra maniera ma sarebbe a mio avviso personalmente un passo indietro il PD nasce per contenere all'interno tutte quelle tradizioni che venivano quindi da quella post comunista a quella post democristiana a quella socialista a quella liberale di centro e penso quella debba essere ancora la propria missione però lo ripeto fino alla noia queste discussioni vanno fatte all'interno del partito e coinvolgendo la base e i territori perché ad oggi c'è veramente un grande disorientamento ultima cosa su questo ma venendo più vicino a noi il caso come dire è anche molto toscano secondo me o se vogliamo anche dell'area centrale della Toscana dove siamo noi dell'area ferentina per due ragioni prima di tutto perché in Toscana il partito demorato è forte anche al di là come dire delle possibili alleanze del Movimento 5 Stelle ma anche in Italia Viva il Consiglio regionale il PD ha i numeri da sé per diciamo per governare dall'altra parte la federazione fiorentina allargata ovviamente del partito democratico è una delle più forti d'Italia quindi le chiedo questo il fatto che oggi al governo non ci siano ad esempio ministri toscani è un problema secondo lei insomma il partito toscano o fiorentino dovrebbe ambire di più o dovrebbe avere più rappresentanza anche in sede di governo ma sai questo penso sia un tema di riconoscimento po' a livello nazionale delle persone e del lavoro che è stato fatto a livello toscano io credo che sul livello toscano si sia fatto un ottimo lavoro a iniziare dalle elezioni regionali che non erano assolutamente scontate tra l'altro come ricordavi il PD ha preso in Toscana e soprattutto in provincia di Firenze dei numeri molto importanti e vedi però il dibattito nazionale lo ribalto subito sulla Toscana se noi ci fossimo candidati nelle ultime elezioni regionali in una coalizione con i 5 Stelle che prospettive ci sarebbero state a mio avviso molto più critiche della scelta che è stata fatta comunque di tenere tutti insieme un partito unito ha avuto un ottimo risultato quando poi andando anche sui temi certamente su alcuni temi possiamo anche collaborare su altri siamo molto distanti penso al tema delle infrastrutture ma in generale anche a livello nazionale a mio avviso c'è proprio dei temi di carattere generale che ci dividono e mi ha fatto molto piacere che anche il Presidente del Consiglio Draghi nel discorso iniziale l'abbia ribadito un po' ribaltare la logica dall'urgenza allo sviluppo o dalla sussistenza a creare le condizioni dei posti di lavoro sono temi importanti poi sulla coerenza dico una cosa abbiamo visto in questi anni tutto il contrario di tutto quindi chi mi parla di coerenza in questo momento anche per esempio nel fare un governo con la Lega che sicuramente personalmente se avessimo potuto scegliere avremmo evitato tutti però ricordiamoci anche quello che i 5 Stelle dicevano dei membri del Partito Democratico anche dei semplici scritti alla fine abbiamo fatto un governo insieme però se si ragiona di politica soprattutto di politica a livello territoriale credo che sulla Toscana sia stato fatto un ottimo lavoro e francamente queste fibrillazioni che abbiamo visto anche nell'ultime settimane dove all'interno di una segreteria c'è chi fa delle uscite stampa attaccando duramente anche quello del segretario questo penso ci faccia solo male perché alla fine si possono avere dei pareri diversi ma se ne discuta all'interno e poi si esce con una posizione comune questo voler per forza apparire all'esterno con delle posizioni anche molto critiche rispetto alla gestione attuale probabilmente fanno prendere coscienza a tutti non si sta parlando solo della segreteria regionale ma si sta parlando di un ragionamento più complesso di quello che vuole essere il PD nei prossimi anni è chiarissimo senta un paio di questioni una e arrivo poi perché voglio chiederle come sta il suo territorio quello che lei amministra in più in generale anche come dire il Mugello nella lotta alla pandemia ci arrivo attraverso le parole di Dario Nardella che anche proprio nei confronti della lotta alla pandemia ha detto noi sindaci siamo il presidio sul territorio in qualche modo dateci modo di aiutarci di aiutare la collettività anche sul tema delle vaccinazioni non solo insomma metteteci in prima linea sostanzialmente ha detto Nardella lei d'accordo? ma in realtà in prima linea ci siamo sempre e comunque perché per esempio sul discorso dei vaccini io credo tra l'altro la regione toscana sia una delle migliori regioni come tasso di vaccinazione rispetto ai vaccini disponibili però l'organizzazione sul territorio ben o male siamo stati coinvolti fortunatamente perché comunque si può riuscire a trovare delle soluzioni conoscendo bene il territorio al di là di un piano nazionale che ovviamente deve andare di pari passo sì io penso che il tema della pandemia alla fine abbia acuito il tema che i sindaci comunque le amministrazioni portano avanti da tempo a noi non fanno paura le responsabilità poi potremmo fare bene potremmo fare meno bene ma poter avere gli strumenti e non parlo solo di risorse ma anche di la capacità gestionale a volte permetterebbe di risolvere delle situazioni su cui comunque i cittadini hanno come punto di riferimento il sindaco nel bene e nel male dico questo per cui il tema più generale a mio avviso è quello di veramente di provare il famoso federalismo fiscale secondo me si deve ampliare a un federalismo funzionale cioè noi ci prendiamo le responsabilità perché bene o male siamo stati eletti per rappresentare una comunità dateci anche gli strumenti perché spesso le cose calate dall'alto comunque si riversano sui territori e non abbiamo nemmeno gli strumenti poi per gestirli in maniera ottimale Certa come sta il suo territorio? Il territorio sta bene compatibilmente con il periodo che stiamo vivendo da un punto di vista di emergenza sanitaria comunque i numeri come sta succedendo in Toscana sono in lieve ripresa anche se non più diciamo di altre zone c'è un impegno importante sulle vaccinazioni queste erano già partite sull'RSA all'interno dell'ospedale stiamo parlando fra richiame e prime dosi di oltre mille persone vaccinate da domenica scorsa è partito anche al poliambulatorio di Borgo San Lorenzo le prime vaccinazioni della fase 2 quindi del personale scolastico mi pare che sugli over 80 ci sia un'ottima risposta da parte dei medici di base il problema è che finché tu hai sei dosi a settimana è un limite è un limite oggettivo oltre a questo c'è chiaramente un problema del tessuto economico io l'ho detto anche in tempi non sospetti il 2021 è molto peggio del 2020 non solo ovviamente per le casse del comune che magari interessano meno ma sono importanti anche per dare una serie di servizi ma vediamo sempre più sofferenza nel tessuto economico sia per quanto riguarda le aziende più grosse più strutturate sia per quanto riguarda anche i piccoli esercenti soprattutto che fa commercio di vicinato lo vediamo proprio in maniera pratica c'è una serie di chiusure di negozi anche storici che chiaramente sono in crisi di liquidità su questo bisogna fare un ragionamento a livello di territorio perché comunque anche il commercio di vicinato in generale anche l'attività artigiana quelle medio piccole sono il 90% del tessuto economico del nostro territorio e via via che si impoverisce questo tessuto poi ci sono tutta un'altra serie di problemi anche della sicurezza della socialità in generale anche all'interno dei nostri capologhi per cui su questo credo che se non c'è un intervento corposo al di là dei ristori che nel bene o nel male sono arrivati poi si potrà dire che non bastano ma ci sono tantissime attività in sofferenza lo vedremo nel 2021 blocco dei licenziamenti sarà prorogato probabilmente per altri mesi ma il prossimo anno quest'anno e anche il 2022 saranno anni durissimi senza delle risorse rischiamo davvero di far diventare le nostre città fantasma da un punto di vista soprattutto delle piccole attività Seta proprio su questo le faccio l'ultima domanda perché effettivamente lei ha un po' posto il tema lei dice bisogna ragionare su una strategia di ampio respiro perché una cosa sono i ristori che servono in qualche modo per non far chiudere il bandone il bandone alle attività dall'altra parte però c'è un'idea diversa cioè immaginare come sarà il futuro anche dei territori anche delle attività economiche e qui in aiuto dovrebbero arrivare 209 miliardi e rotti del recovery fund cosa chiedete voi soprattutto in questo senso oggi abbiamo parlato altre volte anche di infrastrutture non solo mi piacerebbe capire oggi sullo sviluppo delle attività produttive sullo sviluppo economico che cosa si può fare con quei soldi perché il rischio insomma non ce lo darebbero non ce lo concederebbero nemmeno all'Europa è che si tenti di utilizzare quei soldi per mantenere lo status quo per salvare come salvagente della situazione ma questo poi a lunga durata non cambierebbe le cose è questo il tema dalla sussistenza allo sviluppo alla prospettiva i soldi del recovery noi abbiamo fatto anche delle richieste come Unione dei Comuni per quanto ovviamente una zona piccola rispetto al sistema Italia però il tema delle infrastrutture e degli investimenti deve andare proprio in questa direzione rispetto a come si spendono questi finanziamenti perché o tu sei in grado in questo momento di creare quelle condizioni che in qualche maniera o ti abbattono in maniera strutturale i costi o ti garantiscono dei servizi che oggi non hai e quindi una possibilità nel momento in cui ripartirà meno male l'economia tu abbia anche un vantaggio competitivo o altrimenti facciamo solo dei salvagenti che possono servire per i prossimi per i prossimi anni e mezzo ma poi il problema ti si ripropone il fatto di investire anche nelle tecnologie nell'innovazione nell'economia verde non deve essere visto come riprendo magari dei progetti di 30 anni fa perché li devo presentare ma va fatto veramente una valutazione dell'impatto economico perché possono creare anche degli indotti importanti alla fine un'impresa che si trova a riconvertire magari anche la produzione perché cambierà anche la domanda del consumatore la verità va detta non è che si risolve nel 2021 il covid perché anche con i vaccini tutti gli anni saremo costretti a vaccinarsi se continua questa situazione per cui cambieranno molte cose e noi dobbiamo investire per creare le condizioni dello sviluppo non solo per salvare le aziende che è importante farlo in questo momento con le risorse a disposizione ma 210 miliardi investiti in una certa maniera possono davvero essere una svolta anche migliorativa magari fra tre anni rispetto alla situazione pre-covid ultimissima cosa proprio al volo ma veramente 30 secondi qual è la dimensione giusta per avanzare le richieste in questo senso cioè lei ne parla ovviamente a livello comunale a livello di unione dei comuni del Mugello ieri ho visto se non sbaglio il recovery chianti insomma queste istanze simili diciamo che sono venute dal territorio del chianti diversi comuni c'è però la città metropolitana c'è la regione evidentemente qual è la casa secondo lei in cui anche proposte concrete possono essere messe nero su bianco penso ci sia un tema che è quello più delle municipalità ovviamente non possono essere comuni ma che può essere ben rappresentato dalle città metropolitane o anche dalle province come sintesi delle esigenze dei comuni poi è chiaro che a mio avviso è il livello regionale che poi deve quantomeno coordinare su quelle che sono opere infrastrutturali importanti cioè noi ovviamente come Mugello possiamo avanzare la richiesta sulle nostre infrastrutture sul digital divide poi c'è un sistema paese il sistema paese vuol dire autostrade che collegano regioni vuol dire implementare il sistema di trasporto pubblico ad alta velocità tra le regioni per cui a mio avviso è importante il percorso cioè che ci siano comunque dei contenitori per cui la città metropolitana come sta facendo recepisce i temi e cerca di fare sintesi dei temi anche dei comuni dal più piccolo al più grande e poi la regione che fa diciamo su un piano diverso anche rispetto all'ambito nazionale fa un'ulteriore sintesi però in questo momento credo tutti debbano essere coinvolti e ad oggi devo dire a parte il lavoro abbiamo fatto in autonomia a livello nazionale siamo stati coinvolti molto pochi come sindaci e come comuni grazie mille speriamo che cambi in questo senso intanto grazie Paolo Moboni per essere stato con noi grazie grazie a voi a tutti per averci seguito da casa terminiamo qui anche per questa settimana ci vediamo naturalmente lunedì buona serata a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti